Lorenzo Di Mattia, Portfolio Manager di Edge Invest Sibilla Macro Fund. Il fondo è un global macro che spazia con approccio opportunistico nelle diverse asset class, azioni, valute, commodity e bond. Qual è stata la maggiore difficoltà che ha avuto nella gestione del portafoglio nel 2016? Il 2016 è iniziato in maniera molto inaspettata perché gli indici hanno iniziato a perdere valore con dei gap downs dai primi giorni dell'anno e non ci aspettavamo questo comportamento, addirittura abbiamo superato i parametri di volatilità del 2008 nel primo trimestre del 2008. Gli indici europei hanno perso addirittura il 30% in due mesi, nel 2008 avevano perso il 25% in tre mesi prima del primo rimbalzo e quindi purtroppo ci siamo trovati spiazzati da un posizionamento lungo di azioni europee che avevano preso tra l'altro a buoni prezzi su una correzione dopo Draghi in dicembre e che ci avevano infatti fatto fare un bel mese in dicembre però purtroppo ci siamo trovati spiazzati. In più abbiamo sbagliato il timing sull'energy che anche quello ha perso più del previsto e diciamo che nella big picture ci è capitato nel passato questo tipo di volatilità quando c'è un cambio così repentino da un range a un bear market perché si tratta di un bear market anche nel 2007 e 2008 abbiamo avuto dei drawdown simili da cui poi ci siamo ripresi perché ci adattiamo ai nuovi parametri di volatilità quindi questo è un po' l'obiettivo. Come pensa di generare valore nel 2016? Azioni, valute, reddito fisso o commodity? È un po' tutto perché allora per quanto riguarda il dollaro noi abbiamo fatto soldi l'anno scorso con lungo dollaro contro dollaro neozelandese Korean won, dollaro di Taiwan, dollaro canadese e questi trade sono stati chiusi tra dicembre e gennaio completamente quindi abbiamo eliminato e è stato molto profitable. Quest'anno hanno avuto un ritracciamento molto grosso quindi ci sono degli entry point molto interessanti adesso e stiamo rientrando, infatti siamo più o meno a metà posizione e questa è una posizione strategica, non è dovuta al rialzo dei tassi della Fed è dovuta a una politica espansionistica in questi paesi per quanto riguarda il mercato delle commodity siamo a lunghi di argento e vogliamo comprare correzioni anche sull'oro e gli stocchi oriferi cosa che avevamo fatto anche l'anno scorso, poi li abbiamo venduti tatticamente e per quanto riguarda i mercati azionari il prossimo trade secondo noi sarà sullo short side quindi a ribasso, maggio e giugno ci aspettiamo la correzione e poi anche un rally nel momento in cui l'ICB ingrandisce il programma di quantitative easing anche a asset distressed come i non performing loans e per quanto riguarda i bond ci sarà anche un trade più in là durante l'anno di short dei bond governativi in particolare europei e anche giapponese e questo mi sembra che copre, ecco, abbiamo parlato di valute, azioni, bond e commodities e per quanto riguarda il petrolio siamo un po' neutrali Per quanto riguarda invece i prossimi mesi cosa ci possiamo aspettare da un punto di vista ad esempio di volatilità? A livello un po' tattico ecco, ci aspettiamo un top nei risk assets nelle prossime, forse addirittura prossimi giorni o se non prossime settimane per fine mese io mi aspetterei un top da cui parte una correzione che sarà di dimensioni medie, non mi aspetto proprio un bear come a gennaio-febbraio e poi appunto dipenderà molto dal timing in cui l'ICB e i governi europei riescono a pianificare la ricapitalizzazione delle banche in particolare l'acquisto degli asset distressed quindi prima una discesa, poi una salita probabilmente nell'estate dopo Brexit che è un altro elemento di incertezza che fino a quando non sappiamo l'esito sarà difficile e poi per quanto riguarda il dollaro mi aspetto anzi addirittura proprio oggi è un po' iniziato a fare un rally per cui lì ci siamo, anche lì mi aspetterei che il dollaro possa salire soprattutto contro queste valute a parte l'euro e lo yen che sono un po' più neutrali perché le politiche monetarie sono già molto espansive ma le valute asiatiche dei paesi emergenti possono ricominciare a scendere già da qui e ci aspettiamo un po' forse di correzione nei metalli preziosi e anche il petrolio potrebbe dopo il meeting dell'OPEC che è questa domenica il 17 aprile potrebbe forse fare ancora qualcosina a rialzo ma poi probabilmente ci sarà un pullback quindi diciamo grosso modo un pullback di un paio di mesi un po' su tutto e poi un nuovo rally per l'estate grazie Grazie a tutti.